Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete7, chiama 051 63 81 819. Ben ritrovato il nostro nuovo appuntamento informativo che si apre con la pagina della cronaca mattinata ad alta tensione in pieno centro a Bologna per un rogo scoppiato all'interno di una casa per anziani in via De Carbonesi, col bilancio di tre persone portate in ospedale ed una ventina di anziani che sono stati evacuati maggiori dettagli nel servizio. Prima un botto proveniente dal bagno della struttura, forse per qualcosa di lasciato acceso, poi l'inferno non fosse per la pericolosità della situazione. Soprattutto il fumo ha però reso necessaria l'evacuazione della casa famiglia Ritiro Germini nello storico edificio di via De Carbonesi 3 gestita dai padri Barnabite, due passi dalla zona pedonale di via D'Azeglio, struttura per anziani autosufficienti che può ospitare fino ad una trentina di persone, solo 17 però gli ospiti in questi giorni di vacanze, ma il trambusto è stato notevole lo stesso. Sarebbe stata la cuoca attorno alle 9 ad accorgersi per prima del rogo lanciando un aiuto il successivo allarme con polizia e vigili del fuoco intervenuti prontamente, iniziando così le operazioni di evacuazione dei degenti e di spegnimento delle fiamme. Con loro alcune ambulanze intervenute per soccorrere gli anziani, tre le persone ricoverate, un ospite di 85 anni, una parrucchiera che era nella struttura e una poliziotta portata in ospedale, dicevamo, per una leggera intossicazione da fumo. Via De Carbonesi è stata chiusa per la messa in sicurezza della struttura e l'allontanamento dei tanti curiosi che affollavano la strada. Alcuni degli attuali degenti hanno già trovato riparo presso le rispettive famiglie, per gli altri si stanno valutando le migliori sistemazioni possibili in attesa che Casa Germini torni pienamente fruibile. Questa è dunque la cronaca della giornata, ascoltiamo per ora ai nostri microfoni la testimonianza di uno degli anziani messi appunto in salvo da vigili del fuoco e poliziotti. Lei è un ospite della struttura? Sì, sì. Cos'è successo stamattina? È successo che a un certo punto abbiamo visto un grande fumo, un enorme quantità di fumo, uscire probabilmente dal giardino. E allora dopo abbiamo visto la polizia e i carabinieri che ci intimavano di uscire dalla scala di emergenza ed è stata una prova molto molto pesante perché il problema del soffoco l'abbiamo percepita. Per fortuna è finito tutto bene? Ma alcuni sono all'ospedale, sì sono ricoverati, tre, però sembra nulla di grave per accertamenti, avrebbero dovuto anche a me ricoverare, ma io ho già avuto le mie prove troppe un anno fa. Posso chiedere il suo nome? Mi chiamo Giampaolo. Questa è dunque la cronaca di questa mattinata, ma restiamo in tema di cronaca perché il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Daniele Aiello, è rimasto vittima di un tentativo di rapina ieri sera in centro Bologna via Zamboni. Un uomo l'ha avvicinato con una scusa, poi lo ha colpito al torace tentando di strappargli la catenina d'oro. Aiello ha 24 anni, è riuscito a divincolarsi e a scappare, ma pensiamo cosa sarebbe successo se la vittima fosse stata ad esempio una donna oppure una persona anziana. Ieri sera passeggiando per il centro di Bologna, prima mi ha tirato una gomitata, un magrebino, facendo il classico gesto dell'orologio sbottonato, per poi venirmi incontro chiedendo di ricevere le scuse e successivamente, prendendomi prima il braccio, mi ha dato una pacca forte sul petto cercando di robarmi la collana che ero più sbottonato. A me è andata abbastanza bene ieri sera, ma se fossi stato da solo, soprattutto se al posto mio ci fosse stata una ragazza, un anziano, non so come sarebbe potuta finire. Daniele Aiello, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, spesso impegnato a segnalare e denunciare situazioni di degrado, di insicurezza in città, questa volta si trova a raccontare in prima persona un'aggressione che ha subito ieri sera in via Zamboni. Dopo averlo avvicinato con una scusa, un uomo lo ha colpito sul torace per tentare di strappargli dal collo la catenina d'oro. Aiello, che era insieme a un amico, ha reagito ed è riuscito ad allontanarsi raggiungendo una pattuglia dei carabinieri che era poco lontano. È una situazione che purtroppo, nel centro di Bologna in particolare, avviene troppo spesso. Ieri è accaduta a me. Non mi meraviglio purtroppo perché ultimamente all'ordine del giorno, tra furti, borseggi e aggressioni, è una situazione che non può assolutamente continuare. Io provvederò appunto a sporgere denunce proprio perché è importante sollecitare attraverso delle denunce dell'insicurezza che c'è in città e attraverso queste denunce l'auspicio è quello che aumentino i presidi sul territorio. Lei ha denunciato l'episodio, ha raccontato l'episodio sui social e tra i commenti ci sono persone che dicono di avere subito furti o scippi, rapine. Sì, appunto, è tutto un commento di cittadini bolognesi e anche commercianti che anche, soprattutto in questi giorni dove la città è così, tra virgolette, deserta e dove dovrebbe essere, diciamo, più sicura, invece tutti i giorni avvengono borseggi dove avvengono appunto furti ai negozi. Addirittura un commerciante scriveva che in una settimana ha subito tre furti, scassi, eccetera, eccetera. Quindi non è una nostra percezione ma è un fatto reale e concreto di una città che è sempre più invivibile e più insicura. Questa è la cronaca, passiamo alla polemica politico-culturale perché continua a suscitare vasta eco la provocazione lanciata dal New York Times alcuni giorni fa che in un articolo aveva criticato Bologna per una serie di motivi, eccesso di turismo, altri vari punti di degrado, il fatto che i bolognesi mangiassero troppa mortadella, come se questo fosse un problema urbano e oggi ha voluto replicare all'articolo anche confabitare. Turisti mordi e fuggi che cercano un B&B sotto le due torri per trascorrere qualche giorno di vacanza, studenti a caccia di una sistemazione ad un prezzo abbordabile, lavoratori stagionali o stabili che sono alla ricerca di una casa decorosa, possibilmente anche in questo caso ad un costo sostenibile. Per non parlare delle famiglie che non riuscendo spesso ad accedere ai mutui preferiscono optare per un appartamento in affitto. Insomma, tutte esigenze comprensibili e compatibili con una città che cresce, cambia e si adegua. E come se non bastasse ci si mette anche il New York Times ad accusare Bologna di overturism definendola un mangificio a cielo aperto. Di pari passo però devono cambiare anche le politiche abitative messe in atto dal comune di Bologna, a lanciare un messaggio chiaro e forte e confabitare l'associazione di proprietari immobiliari. È un appello per costituire e convocare questo tavolo con tutte le associazioni proprio per affrontare assieme questo problema. Cioè le politiche abitative a Bologna vanno affrontate nel loro insieme. Non possiamo un giorno parlare del problema degli affitti turistici, il giorno dopo parlare del problema delle case per gli studenti e dopo ancora parlare del problema delle case per i lavoratori. Bisogna affrontare tutto in insieme per dare una soluzione a tutti. È fondamentale dunque, secondo Confabitare, studiare un protocollo d'intesa che garantisca il diritto dei proprietari a trarre un reddito dai loro immobili senza però compromettere la qualità di vita dei residenti, degli studenti e dei lavoratori. Nel passato si è fatto tanto e si fa anche oggi tanto per far sì che Bologna diventi una città attrattiva per il turismo. Però chiaramente bisogna anche offrire ai turisti un'ospitalità, anche un'alternativa a quelli che sono gli alberghi. A Bologna ci sono 4.000 appartamenti che sono stati destinati ad affitto turistico, ma questo non è il problema. I proprietari che affittano e che liberamente decidono di mettere a reddito il loro appartamento seguendo l'affitto turistico non possono essere considerati dal Comune di Bologna un problema. Il Comune considera che questi proprietari che hanno affittato con affitti turistici considerano il problema e quindi sta mettendo dei paletti proprio per evitare che i proprietari possano seguire questa strada, da prendere questa decisione. In realtà non è con queste proibizioni che risolviamo il problema, ma con delle agevolazioni. Se saliamo dal centro verso i colli la polemica cambia i connotati, ma non si abbassa di tono. Tornano infatti alla carica i residenti dei colli per l'eccessivo traffico e rumore che devasterebbe in qualche modo le loro notti. La musica ad alto volume per tutta la notte. Pachine continue. E il parcheggio selvaggio delle auto. I residenti di via di Casaglia e via di San Luca Bologna non hanno pace sia per il rumore acustico che per il disagio vissuto quando la strada diventa aria di sosta non autorizzata e quindi pericolosa. Il caos si è accotizzato da quando in città ha fatto capolino il caldo estivo e i locali dei colli bolognesi sono diventati una meta alla ricerca di un po' di fresco. Da tempo i residenti chiedono all'amministrazione comunale di trovare una soluzione al problema che risaputo non è solo e appena del periodo estivo. Lo scorso aprile è stato Vasco Rossi a smistare il traffico delle auto. Il tema è stato oggetto anche di diverse interrogazioni di Anna Maria Cesari, consigliere del quartiere Porto Saragozza, capogruppo di Forza Italia. Questo per la pagina politica c'è anche lo sport. In questi minuti in cui stiamo andando in onda il Bologna sta presentando il forte del rezzino nazionale spagnolo Miranda che vedremo in campo domenica al Dallara per le ultime sul Bologna, sulla presentazione di Miranda e quant'altro. Vi rimandiamo ai nostri prossimi telegiornali anche con altre notizie. Per ora ci fermiamo qui, appuntamento ai prossimi TG. E-TV è sempre più online e col nuovo sito www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.